Il question time che si terrà giovedì prossimo, 31 gennaio, presso l'aula consigliare Alfonso di Filippo di Agropoli, voluto da Agostino Abate, non fu poi votato dallo stesso consigliere che ne chiedeva l'istituzione. Leggendo la delibera di Consiglio Comunale del 15 settembre 2018, si riscontra il voto contrario del consigliere, perché a suo dire la maggioranza aveva modificato il regolamento presentato precedentemente in commissione e quindi contestò tale modifica, proponendo la modifica alla modifica. La proposta di Abate venne bocciata, pertanto si proseguì all'approvazione con 12 voti favorevoli e uno contrario, il suo. In sostanza, il consigliere di minoranza chiedeva nella proposta di modifica la possibilità di alternare sempre la discussione delle interrogazioni e interpellanze tra maggioranza e minoranza all'interno delle varie sedute e di non tenere presente l'ordine cronologico di deposito delle domande. Inoltre, le interrogazioni e le interpellanze, eventualmente non discusse nella seduta di question time, dovevano essere inviate alla seduta successiva e discusse, sempre in ordine alternato, tra quelle presentate dalla minoranza e quelle presentate dalla maggioranza. Indipendentemente dall'ordine cronologico di deposito, tale modifica non fu approvata per strategia politica della maggioranza, ha dichiarato il consigliere, pertanto fui costretto a votare contro. È interessante ora sapere quali saranno le interrogazioni e interpellanze del consigliere Agostino Abate e consolato Natalino Caccamo, che rappresentano la minoranza, e quella di Gisella Botticchio, che già durante il suo insediamento al posto di Monica Pizza aveva interrogato qualche consigliere.